Il commento della partita credo... Vabbè, sono contento per il risultato. Molto probabilmente ci siamo ripresi, abbiamo perso domenica in casa contro Santa Firmina, perché ritrovavamo ampiamente la vittoria. Però oggi abbiamo già dato di sotto delle nostre capacità, con poca personalità, molto... Non c'eravamo tanto con la testa, giocavamo, buttavamo via la palla, cosa che a noi non ci piace. Però, diciamo di positivo, c'è il risultato. La prestazione di qualcuno che francamente mi ha stupito anche a me, che pensavo che non fosse tanto in condizione, però che ho voluto far giocare e ha dimostrato ampiamente di poterci stare alla grande. Certo, anche perché alla fine, invece nel secondo tempo, la squadra ha avuto il merdo che non si è fatta chiudere. Ha cercato sempre delle ripartenze. Sì, beh, diciamo che, insomma, la Lormoponte è una squadra ben messa in campo, ha delle qualità, erano sotto, quindi hanno dovuto anche loro un po' reagire, rispetto al primo tempo. Abbiamo saputo un po' soffrire, tutto qua, abbiamo avuto l'occasione per chiuderla, però poi succede come domenica scorsa, che se non l'aiudi più o poi ti possono infilare. Oggi è andata bene, domenica scorsa no, quindi godiamoci questa vittoria, però noi sappiamo che abbiamo tanto, tanto, tanto da lavorare, è un gruppo seminuovo, perché 7-8 undicesimi sono andati via, quindi, insomma, quelli che sono arrivati sicuramente ci stanno dando una mano e ce la daranno, però sappiamo che dobbiamo crescere in mentalità, soprattutto, in autostima. Questo è un gruppo che nella gara ha poca lettura, perché non manca anche di personalità, ecco, nei singoli, però tutto sommato, dai. Siamo all'inizio, bravissimo, mi hai rubato le parole di bocca, siamo all'inizio, siamo a settembre, ancora quindi, insomma, di percorso c'è, ovviamente, tanto noi non è che dobbiamo ambire a vincere un campionato, però dobbiamo cercare di fare il meglio, è quello che ci chiediamo, farli crescere, caratterialmente, soprattutto tecnicamente, beh, certo, sì, e poi c'è quel marchio che pesa. Eh, beh, certo, è ovvio, quindi la crescita dell'individuo, poi alla fine, insomma, ecco, ti rende anche felice, no, ti dà quella spinta in più. Grazie. Grazie a te, Antonio.